Da quando è iniziato e come è iniziato questo sport? Allora, questo sport ho iniziato circa due anni e mezzo fa, vedendo una gara di trial. Da subito ti appassioni, perché comunque le evoluzioni che si possono compiere con delle semplici biciclette sono molto spettacolarie e la voglia di provare e riuscire è tantissima. Ecco, quali saranno i tuoi prossimi appuntamenti? Allora, questa domenica farò una gara a Piateda e in questa gara cercherò di difendere la mia posizione attuale nel campionato, che è secondo, poi mirando anche alla prima, cercando di battere con lui che è il campione italiano attualmente in quelle gare. Perfetto, ti vedremo anche a Osnago però prossimamente, giusto? 16-17 ottobre, in cui saremo a fare un'esibizione con il nostro sport, Mad Boys, e cercheremo di dare il massimo anche lì come sempre. Perfetto, vuoi dare un consiglio a chiunque voglia praticare questo sport? Per chi vuole provare questo sport consiglio di prendere una bici e provare. Provare anche con una bici normale, perché comunque la voglia e le soddisfazioni arrivano in questo sport, se uno ha la pazienza di provare e riprovare, in che non ci si riesce. Grazie mille. Grazie, ciao. Grazie mille.